E vorrei ringraziare tutti voi per aver partecipato, siate tanti e soprattutto vorrei ringraziare per la passione e anche per la competenza con la quale siete intervenuti, perché la passione e la competenza sono due ingredienti importanti, se io non ce la metto o non ha la competenza non si riforma niente in questo stato. E quindi diciamo che io sono contento perché non è che sono un grande conoscitore, nella vita non si può essere tuttologi, non sono un grande conoscitore però poi dirò anche che ho fatto un'esperienza nel mondo della scuola e vi dirò le mie impressioni. Io credo che il senso di questo nostro lavoro sia quello di provare a mettere insieme una serie di riforme di cui la scuola è un cardine centrale, ma non è il solo, per dare una scossa a questo Paese, perché la situazione reale del Paese è anche più brutta di quello che può apparire. È un Paese fermo, è un Paese fermo anche osservandolo dai pochi mesi che io lo osservo dal Parlamento, è un Paese molto fermo anche dal punto di vista della produzione delle norme, ci mette troppo, sono farraginose e l'incastro tra una serie di settori anche della vita parlamentare è veramente troppo lungo. Non che questo debba andare a scapito della democrazia, ma se ci si mette una settimana a approvare il decreto sulla violenza negli Stati è evidente che qualcosa non funziona. quindi questo è un elemento preoccupante per la tenuta del sistema. Io dico che questo della scuola gli è stato attribuito una grande importanza e secondo me è giusto, perché lo dicono tutti, insomma lo avete detto voi, perché se no non si sarebbe qui in tanti a parlare della scuola stasera, ma tutti i commentatori più avvenuti dicono che un Paese riparte da costruire una prospettiva e dei grandi valori sul tema della scuola. Ma quest'anno mi ha dato il Nobel a una bambina pakistana che sfidando tutto e tutti ha dato un grande valore al tema dell'andare a scuola, del desiderare con tutte le sue forze un'istruzione per potersi affermare, per poter pensare a una vita meglio di quella a cui sarebbe stata destinata, ha preso il premio Nobel, guardate l'importanza, la forza, la potenza di volersi istruire per migliorare, per diventare una persona diversa, più competente, più colto, più libero. Allora io penso che comunque nella difficoltà del momento e anche nella parzialità di questo documento che è stato presentato, penso sia stato fatto bene a prima una riflessione su tutto il Paese, perché non è che uno deve andare a sentire io ho come le belli documento la buona scuola, no, deve andare a sentire quali sono le cose che sembra potrebbero funzionare e quelle che invece non funzionano. Ma se uno non fa questo sforzo francamente si fa come la riforma Berlingueri, come la ricordo, con la riforma Gelmini e con la riforma Moratti, ce le costruirono e ce le siamo presi, d'accordo? Perché funzionava così e anche la riforma Berlingueri, io ero segretario dei DS, quindi qualche idea ho avuta su quella riforma, un pochino costruire dal tabulino fuori. Allora meglio, come dire, confrontarsi a avere qualche punto di vista diverso e capire se la roba può essere modificata, tanto più che nel Paese si sono mosse tante forum o tante serate comunque queste per discutere e entrare in America. Ecco, questo per dire come elemento di introduzione. Dico, prima di dire due cose su quello che io penso, ho detto prima la voglio inserire in un quadro che è un quadro complesso, come pensate ci sia un grande cerchio lì. In questo cerchio ci sono in mezzo la delega fiscale, lo sblocca Italia, il decreto competitività, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia civile, la riforma costituzionale, la riforma elettorale e la riforma del terzo settore. Ieri in commissione sono intervenuto sulla riforma del terzo settore perché è una legge delega, complessa, ambiziosa, forse che porta anche qualche problema come quello della scuola, però non è questo l'argomento di stasera. Ma vi ho fatto quell'esempio per dire che questo Paese ha tanto bisogno di riforme tutte insieme che delle volte quando uno le guarda dice, ma siete grazie, possono appare, possono spaventare, come si fa a tenere tutte insieme? E invece bisogna capire che questo Paese si riforma se parallelamente ne fa incastrare tutte e ovviamente ne ritrova riscontro, ad esempio, su quello che è un provvedimento che è stato presentato ieri l'altro, è la legge di stabilità, perché se uno fa una serie di discorsi ma la legge di stabilità non dà una spinta, per esempio, come l'ha data, a abbattere la componente costo del lavoro, è evidente che si torna alla solito discorso. Naturalmente porterà dei problemi di copertura che stanno discutendo, ma un'idea di togliere questo elemento di freno per le imprese mi pare appartenga alla giustizia sociale, come quella di dire provo a fare in modo per i primi tre anni, tolgo le tasse sui ragazzi e sui giovani che vengono assunti, mi sembra un elemento che abbia una sua logica. Ecco, non entro negli altri corsi, però un certo grado di coerenza va trovato. Allora, questo discorso della scuola, io lo inquadrerei così, ma prendo le parole che avete usato voi, ecco, perché ci sono tanti aspetti, detto che è centrale, detto che è importante, detto che forse, come è scritto nel documento, si tenta di fare un cambiamento a 360 gradi rispetto all'idea gentiliana in cui al centro il professore. Proviamo a mettere al centro lo studente e a fare in modo che il contesto dei servizi che è intorno giochi sulla figura principale. Certamente il docente lo è, ma il docente ha un servizio di uno...